C'è una cosa che si chiama il MED-SEI Forum, che in realtà viene da un modello europeo, che sono questi Sustainable Energy Investment Forum, che esistono da già vari anni in Europa. Cercano di mettere insieme tutti quelli che sono i stakeholders dell'energia da una parte e tutti quelli che sono le banche, non soltanto le banche internazionali, ma anche le banche locali. Cercare di capire come fare in modo che ci sia più matching e che ci sia più interesse dalle parte delle banche e che i due mondi si parlino, perché molte volte non c'è questo dialogo. E quindi questa è una delle cose più apprezzate del programma. Ne abbiamo già fatti vari, in vari paesi e ce ne saranno altre ancora. Stiamo cercando di lavorare sulle politiche, perché alcuni paesi hanno già delle politiche più avanzate, su queste case green e altri no, hanno anche questi piani nazionali sull'energy efficiency, che si chiamano i NIPs, e molte volte menzionano comunque tutto quello che è appunto case green. Un paese non è l'altro, effettivamente abbiamo una ragione che è molto varia, è molto diversa, però sì, effettivamente lavoriamo sia sulle politiche, sia sugli investimenti, abbiamo un approccio diciamo globale e tutto questo anche sempre per l'idea dei target climatici.